Buongiorno a tutti, cari fratelli e cari sorelle, anche cari amici e cari amiche. Oggi voglio farvi una domanda. Sapete che cos'erano gli altiluoghi? La scrittura nell'Antico Testamento parla spesso di altiluoghi. Gli altiluoghi erano in abominio al Signore. Il Signore li detestava. Ma al giorno d'oggi, se riflettiamo bene, le cose non sono molto cambiate. Durante i fatti narrati nell'Antico Testamento, ogni tanto sorgeva un re che riedificava gli altiluoghi. Pochi re hanno fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore. Pochi re sono quelli che abbattevano gli altiluoghi, ma sorgevano sempre molti re che riedificavano questi altiluoghi. E spesso lo facevano per aggraziarsi i favori del popolo. Perché vi dico questo? Perché gli altiluoghi, dovete sapere, che erano dei posti, delle zone un po' in collina, un po' rialzate. Perché no? Per questo si chiamavano altiluoghi. E su questi altiluoghi che cosa accadeva? Perché erano in abominio al Signore? E perché piacevano molto al popolo? Perché su questi altiluoghi si mischiava la lode e l'adorazione al divertimento. Erano dei luoghi dove alla lode e all'adorazione si mischiava il divertimento, spesso nascevano delle orge, si faceva di tutto, si mischiava la spiritualità alla carnalità. E questo era un abominio per il Signore. Però piaceva molto al popolo. Perché? Perché il popolo cercava il divertimento, la distrazione. E questi re che riedificavano gli altiluoghi lo facevano appunto per aggraziarsi i favori del popolo, i consensi del popolo. E allora io ho fatto una riflessione e voglio chiarire subito che questa mia riflessione non vuole né giudicare né condannare nessuno. Colui che giudica è il Signore, quindi lasciamo a lui il giudizio. Però riflettiamo un attimo intorno a quello che vediamo ultimamente. Noi vediamo che le cose non sono molto cambiate rispetto a quei tempi. Perché anche oggi purtroppo ci sono molti luoghi di culto che sono diventati degli alti luoghi. Sono stati trasformati in alti luoghi. Se noi scorriamo su YouTube e anche su molte pagine su Facebook, vediamo che ci sono alcune sale di culto, quindi luoghi di culto, che sono state trasformate in luoghi di divertimento. Alcune somigliano più a discoteche che a luoghi preposti per l'adorazione e per la lode, con delle musiche assordanti. E notate che un'altra caratteristica degli altri luoghi era proprio la musica assordante, la musica che doveva stordire le persone. E poi in seguito a questo stordimento commettevano degli atti oscene davanti al Signore. E allora io ho fatto questa riflessione. Ho detto, come dice il saggio Salomone, non è cambiato nulla sotto il sole. Le cose che sono state fatte saranno rifate, vengono rifate. Cioè tutto si ripete. E noi vediamo che anche oggi sorgono dei pastori che pur di aggraziarsi i favori del popolo, i favori dei fedeli, dei loro seguaci, ecco rendono questi luoghi di culto più adatti a luoghi di divertimento, di distrazione, dove piuttosto che cercare la presenza di Dio, si cerca l'emozione. Si confonde l'emozione con la presenza di Dio. Cioè si mischia l'adorazione al divertimento. Ma questa è fornicazione spirituale. Noi dobbiamo adorare il Signore in spirito e verità, senza lasciarci condizionare dalle alcune melodie di musiche, o dalle luci, o dall'ambiente che ci circonda. Dobbiamo adorare, come dice il Signore, in spirito e verità. Questo deve essere l'atteggiamento del nostro cuore. Non dobbiamo trasformare i luoghi di culto in discoteche. Allora, onde evitare che i giovani vadano nel mondo, hanno portato il mondo nelle chiese. E allora così dicono, così tratteniamo i giovani. Ma lasciateli andar via, questi giovani, se è questo il modo per trattenerli. Perché non conoscono il Signore. Chi conosce il Signore non ha bisogno di essere trattenuto con le luci da discoteca, o con le musiche da discoteca, o piuttosto che riunirsi per pregare, lodare, adorare e studiare la parola, si organizzano giochi, si organizzano cose che servono per trattenere i giovani. Ma io dei giovani così non li trattenerò, non vedo nessun motivo per trattenerli. Perché se è questo lo strumento per trattenere un giovane in una chiesa, allora lasciateli andare, perché questi giovani non hanno conosciuto Gesù. Un giovane che ha conosciuto Gesù non hai bisogno di intrattenerlo, non hai bisogno di trattenerlo presso la tua comunità con dei giochi o con del divertimento mondano. Perché il giovane che ha conosciuto veramente Gesù desidera Gesù e va in chiesa, anche se questa chiesa è senza luci, è senza sedi, anche se è una sala di culto povera. E allora, vedete, questo sistema di intrattenere i giovani con la mondanità, sapete che cosa fa? Manda spediti direttamente questi giovani all'inferno. Perché sono giovani che non hanno conosciuto il Signore veramente. Un giovane che ha conosciuto Gesù, ripeto, non hai bisogno di intrattenerlo. Non hai bisogno di dargli il divertimento perché altrimenti se ne va nel mondo. perché se il suo cuore è per Gesù, starà con Gesù, a prescindere da tutto. Se il suo cuore è nel mondo, tornerà nel mondo. E allora tu portando il mondo nella tua chiesa, stai contaminando quella comunità, la stai trasformando in un altro luogo, che è qualcosa di abominevole agli occhi del Signore. E allora riflettiamo e stiamo attenti, vegliate, perché vedete, io ripeto, non voglio né giudicare né condannare, però io credo che le cose stiano veramente precipitando, si sta esagerando, si sta esagerando, perché le riunioni di culto non sono più delle riunioni di lode, di adorazione, di preghiera o di studio della parola, sono delle riunioni dove ci si incontra per passare un'ora e mezza per divertirsi insieme. Non si cerca più l'edificazione e la crescita spirituale, si cerca l'intrattenimento. E allora ecco che poi sorgono dei pastori che più che dei predicatori sono degli intrattenitori. E allora vegliate, vegliamo, perché gli altri luoghi purtroppo ci sono ancora oggi e sono caratterizzati da queste comunità, da queste sale di culto che sembrano più dei club che dei luoghi adatti all'adorazione. Perciò fratelli, sorelle, stiamo attenti e voi amici e amiche che vi state accostando al Vangelo valutate sempre bene attraverso la scrittura ciò che vi viene proposto, tutto quello che vi viene insegnato, i luoghi che frequentate, controllate sempre che siano in armonia con la scrittura. Io non dico che una sala di culto deve essere una sala dove ci si commisero, ci si batte il petto, assolutamente no. Ma ci vuole ordine, compostezza. Dio è un Dio d'ordine. L'adorazione è l'atto silenzioso del credente davanti a Dio. Non c'è bisogno di portare delle musiche mondane per sentire la presenza di Dio. La presenza di Dio la sentiamo e la gustiamo credendo nella sua promessa. Io sono in mezzo a voi. E allora, fratelli, sorelle, concludo. Esaminiamo sempre bene tutto quello che ci viene proposto, tutto quello che seguiamo in rete, perché è facile lasciarsi trasportare dalle emozioni e confondere una cosa falsa per una cosa vera. La verità è solo nella scrittura. E indagate e valutate sempre che quello che vi viene insegnato e detto sia in armonia con la parola di Dio. Il Signore abbatterà tutti questi altri luoghi dove non c'è più la sua presenza, ma c'è la presenza della mondanità, della carnalità, del divertimento, che mischiato alla lode e all'adorazione appunto diventa qualcosa di abominevole davanti al Signore. Che Dio ci guardi da queste persone e ci metta in guardia di fronte a questi insegnamenti che non sono in armonia con la sua volontà. Grazie a tutti. Vegliamo e stiamo attenti.